l'hai detto tu era la prima partita e quindi alti e bassi ci stanno ancora però faccio un applauso alle ragazze perché comunque hanno giocato veramente una buona gara soprattutto i primi due set mi dispiace per loro infortunio spero che non sia niente di grave che comunque gli ha compromesso un pochettino il sestetto però insomma siamo stati bravi a stare in partita lucidi e portar via tre punti molto importanti su un campo difficilissimo e la reazione tra l'altro è adesso siamo all'inizio quindi gli alti bassi ci stanno e quindi è stato più che altro un calo di tensione quando ci siamo visti sul 2 a 0 dopo state brave a giocare secondo me un ottimo quarto set perché non abbiamo sbagliato niente abbiamo lavorato molto bene a muro e difesa e quindi secondo me ci siamo portati a casa veramente una bella vittoria allora secondo me siamo state molto brave ad applicare ciò che abbiamo fatto in settimana e devo dire che non è mancato un componente all'interno della squadra quindi girando tutte sei e spalleggiandoci sicuramente abbiamo fatto vedere ciò che siamo in grado di fare quindi come prima uscita direi che è stata molto bene direi ma allora è difficile valutare sempre la prestazione singola perché senza la squadra non sarebbe possibile averla quindi è difficile valutare davvero la prestazione singola sicuramente l'anno personalmente ho sprecato poco però devo ringraziare tutte le mie compagne che hanno fatto tutto il lavoro dietro per permettere di arrivare comunque a fare una determinata prestazione a fare una domanda Grazie.